Ciao ragazze e ciao ragazzi, oggi vi voglio parlare di una cosa, molti di voi non lo sapranno sicuramente, ma qualcuno ci ha scoperti, io e Alessandro abbiamo aperto un canale tutto nostro dedicato ai vlog, e quindi volevamo farvi sapere che c'è questo canale, siamo insieme, come molti di voi ce l'hanno chiesto d'altronde, perché ci avete detto, ma come mai non fate video più assieme, tipo quello che avete fatto al Parco Agusto, e quindi niente, ce la siamo pensate, abbiamo detto, ma si dai, apriamo un canale insieme, e siamo qua, abbiamo aperto questo canale, si chiama Pillole di Vita, c'è già qualche video all'interno, io qua, vi metto le anteprime di questi video, e niente, veniteci a trovare, noi vi aspettiamo in tanti, e un bacione a tutti, e grazie in anticipo, ovviamente anche da parte di Alessandro, ciao! Questo fondodinta lo ho stra adorato, perché ha una copertura veramente alta, copre tantissimo, ha tutti i difetti.